Musica Ah, mi schifo, ma l'ho rotto E con il pigiamino, buonasera a tutti Vediamo un attimino se l'audio funziona Scusate se sono un po' raffreddato Sicuramente mi dovrò soffiare al naso qualche volta Con il pigiamino, buonasera a tutti Ai ai ai, maronna mia Che palle Eccoci qua, dovrebbe andare tutto a posto C'è anche la nuova La nuova, no, questa è proprio qua Andiamo Allora, speriamo che tra qualche giorno ci sarà un unboxing speciale Dunque un unboxing speciale Preparato per una roba fresca fresca Allora, vediamo un po' dove ci buttiamo qua Eccoci qua, queste casette qua Aspettiamo un attimino Tanto si deve avvicinare Via, 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 via Andiamo, andiamo, andiamo Tanto, ecco, infatti, devo andare di là Via Dunque, ho messo una grafica nuova La Twitch Molto carina Sul violastro Non ho capito se ho fatto qualche cosa io E' automatico che è andato qui Questo violastro Qualcuno mi ha lasciato Perché vedo che poi ho perso una riguita di 452 Non capisco il perché Chissà chi sarà questi Maledetti che mi lasciano Io provo ad arrivare a 500 Invece sto tornando a persi 400 In questo momento Con un gran casino Vabbè, speriamo di trovare qualcuno nuovo Che segua il mio canale Non c'è un problema Si sa che Intento di cercare questa camera C'è anche il coso nuovo Lì che lampeggia Alla grande Questo qua Mi sta fregando La casa Perché mi stai fregando la casa? Bastardo E' andato lì perché ho visto che qualcuno è entrato da qua Sì, qualcuno è entrato da l'acqua Aspetta, non riesco a fregare Qua Sì, sì, aspetta, aspetta Ciao Dai, il qua Dai che vado a fanculo E' morto dopo Ma porca Mi sarà andata male Che io l'ho ucciso più tardi Non lo so Devo vedere Sicuramente non gli è piaciuto Intanto io sto streamando col mio pigiamino Perché fa bello Traschiette Dunque Tranquilamente Me faccio lo pigiamino E' morto dopo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, me l'ha già fregato. Che palle, madonna mia. Sto iniziando da schifo, raga. Proprio da schifo sto iniziando. Ma porca la... Non c'ho un'arma. Adesso è un pezzo di... Una pozione di corsa, la pozione di corsa. Non so se qua forse dove ci va, da essere molto sincero. Non c'ho poco tempo per andare a controllare sta roba. Poco tempo. Però non ce l'ha arrivato ancora nessuno qua. Ottimo, aspetto. Devo fare in fretta. Ok. Ok. Cioè, è peccato. Non ce l'ha... Basta così. C'è un figo secco. Sì, dai, c'è qualcosa, dai. Comunque ho... Allora, cazzo, aspetta. Bevo questa. Prendo questa. Aspetta, e tiro giù le due armi. Intanto mi servono un cazzo. Allora, aspetta un secondo. Allora, aspetta, tiro giù. Ok. Ok. Per ora, vedremo pure se non mi arriva qualcuno. Ma non lo so. Mi serve un cazzo, aspetta qua con un cretino. Andiamo a qualche altra parte. Forse riesco a beccare un fucile. Lo proviamo, ma. Forse riesco a beccare un fucile. Per ora, vedremo pure se non mi arriva qualcuno. Ok. Forse riesco a beccare un fucile. Forse riesco a beccare un fucile. Questo arriva verso il ponte. Non lo so, non mi garba tanto sta cosa. Forse riesco a beccare un fucile. tutto c'è da andare guardiamo un po' se qua c'è la cassa sì perché qua almeno c'è una cassa però me la dimentico sempre questa là c'è la casa inizio ad essere un po' ok inizio un po' con un po' di roba meglio di niente so mezzerrancats andiamo verso la safe visto che c'ho tempo comunque, io direi di un attimino di tanto non è che sta andando molto bene questa partita devo essere molto sincero dunque, io direi di un attimino di aspettare di aspettare la nebbia e poi entrare perché non la vedo molto molto buona sta partita devo essere molto sincero comunque, buonasera a chi è entrato in live ci sono due persone una sono sicuramente io e l'altra, non lo so welcome if you are english scusatemi, c'ho un po' di tasa tappata un po' di tosse sicuramente star muterò mi dovrò soffiare il naso e tirerò sul naso anche la raffreddora mi sta prendendo un po' infatti dopo mi devo prendere il medinite più tardi ci sarà un pochettino meglio allora, mi sembra che la live è tutto ok va perfetto, il mio nuovo overlay funziona è una grande con i lampeggiatori si lampeggio e beh guarda c'è Link wake up si certo com'è? si vede bene? io non lo so scusa se mi soffio il naso mi vedrai lampeggiare con il naso che soffia cazzo sta arrivando cazzo mi son distratto Link entro al dentro oh entro al dentro entro al dentro oh mannaggia a me che mi son distratto non ci credo vabbè ma di pochissimo due o tre secondi entro uno due tre quattro sei pure quattro cinque sei secondi che spiga guarda questi qui me li prendo ok uff olla questa è tosta eh ma che palle si va lì verso le prigioni verso le prigioni so cazzi mio 94 con 50 cazzo riusci a prendere sai che riusci a prendere ah no se no ahiaiai però è bella la tua live mi è piaciuta Link ma quanta gente c'è una mazza ok mazza poi una volta con la telecamera incredibile una roba stupefacente io che non ti avevo mai visto mamma mia mi son detto ma è lui nooo quella barba non ci voglio credere guarda Link sto pure a strema col pigiama come te è vero pure come te però io ho le luci accese dunque si vede benissimo questo pigiama a pedalini fazzoletto per starnutire con tranquillità penso starnutisco che uh uh oh madonna mia nemmeno lasciare un'arma bruco così qual'è questo ma che bravi guaglioni bravi bravi uh porca grande ma guarda quanta bella roba che me lasciano sono formidabili sta gente formidabili li adoro però facciamo attenzione a che male che ci sia qualcuno eh sì sì infatti io sto così tanto bene ecco inizioni non si sa mai che mi incontro ok via cioè non hanno preso la cassa veramente sono dei pazzi uh cazzo non hanno preso la cassa veramente oddio non hanno preso la cassa ciao pomca pomcopac ogni volta non riesco a dirvi il nome mannaggia a me mi devo iniziare a imparare non può essere che faccio ste figure sorcine che non mi ricordo non riesco mai a dir il tuo nome pomcopac pomcopac mi piace molto per essere molto sincero pomcopac via c'è qualcuno lì però non vado non attacco perché io in realtà sono messo dentro sto dentro ok lì forse non ci dovrebbe arrivare più nessuno li metto un attimino qua capisco com'è la situazione ok tanto qua non mi dovrebbe arrivare più nessuno ecco là madonna mia dove c'è il peggiore posto che a me non mi è mai piaciuto e chiude lì oggi incredibile chiude lì allora o vado con sta cosa perché tanto dietro di me non ci dovrebbe più essere nessuno devo dire di andare chiudendo con questa dunque alla fine sto iniziando a stare bene c'è un bel fucile con mirino ah e poi hanno detto che l'8 dicembre c'è una sorpresa per questo gioco io dunque l'8 dicembre devo restare a casa speriamo così almeno capisco cos'è questa sorpresa pura la statista no 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 rimango qua col cazzo che mi ammazzate così ok non ci arrivo però a ucciderlo no si buongiorno quello è già cascato giù come stai comunque tutto ok in rumeno il mio nome è copi l'uguale ragazzo pom copac albero emc ok andiamo un po' chiude chiudiamo andiamo questa è una passeggiata tranquillo e beato facciamoci una passeggiata qua non c'è niente no non c'è la mazza proprio ma che cazzo va bene allora ah microsoft potrebbe essere è vero ok mi sta chiudendo dietro ma intanto ce la faccio tranquillo controlliamo che non mi ci sa nessuno dietro che sta ancora come un pazzo che se dimenticato deve dannare allora piano cazzo là c'è qualcuno e la madonna se stanno a ammazzare qua così in questa maniera del cazzo proprio ok aspetta un attimo io me la giro così e me ne vado verso dentro con tranquillità sempre con tranquillità madonna non c'è un cazzo per ripetere la sede dove me ne vado ah dentro al capanno guardate che bello mi metto qua dentro quello si sta a costruirci vabbè mi metto qua e mi sa che sono anche entrato sono entrato top 25 top 10 già ci sono arrivato tanto comunque cazzo se io rimango qua questi qua mi devono passare davanti cioè questi mi devono passare qualcuno davanti io mi metto qua in un memo tanto anche l'ultima è mega è mega è mega qualcuno me la dice deve passare che cazzo c'ho questa dietro al sedere lì non ce ne può star nessuno da quella parte cazzo se me sbaglio sai sono proprio deficiente uh sta là sopra sta ma non voglio combinare guai no no ok perché lì c'è ancora qualcuno guarda che poi mi manda qualche razzo in culin un culin che mi uccide ah le tue foto e il mio banner qui sono degli alberi chissà come mai dei pollici verdi eh greenpeace o wwf oh guarda oh guarda e vaffanculo eh si vaffanculo ecco qua oh cazzo merda qua potrei pure morire ah sono morto per un indefine ah cazzo io non sapevo che non dovevo reagire cazzarola e me l'ha fatto in culina e me l'ha fatto in culina e vabbè ah sei animalista non naturalista vabbè quello era sicuro hai animalista dunque non mangi carne giusto? vabbè carne e tutti i derivati me l'ha fatto in culina non novio Ah, sei proprio vegano? No, non vegano, ma l'hai scritto Ah, sei pure intollerante Mamma mia Cioè, ma allora che mangi, scusa? Cioè, cosa puoi mangiare? Cioè, cosa puoi mangiare? Sì, ok, va bene Ah, ok Dava, cazzo, quello mi arriva prima però, ma porca Proviamo un attimino ad andare incontro Ma come cazzo ha fatto a ammazzarmi, ma porca Ora, odio, odio questo bug, questo cazzo di pistole Che mi ammazzano in due colpi Cioè, ma non è abballucinante, cazzo Cioè, due colpi Ah, ok Sì, ok Grazie a tutti. Ah, forse se metto Y è meglio. Lolliamoci, vai. Lolliamoci. Grazie a tutti. Abbiamo trent'anni. Muffin do Gorgi sta a faccia con il cuoricino al posto dell'occhio. Che cacchio sta a succedere? Non lo so. Allora, andiamo. Che cacchio sta a faccia con il cuoricino al posto dell'occhio. Quando passa così troppo e mezzo mi piace proprio. Qua bisogna andare proprio per le corse. Sai che però non arrivo? Non arrivo nella casa in cui dovrei andare. O forse sì. Sì, gioco su Xbox One S. Gioco su Xbox One S. No, dai. Maronna santa, prendi tutto. Mamma mia, quanto l'odio. Quando fa così comprende me la mazza. Mi fa per perdere tempo. E poi qualcuno viene qua e mi ammazza. Eh, la madonna. Qua, la pistola. Anche altrimenti io non ho un PC potente. Dunque posso solo giocare che su Xbox. E merda. Che fa? Che no. Posso solo che mette Travis Stone. E cazzo però. Questo qua è verde. Ma no, mamma mia. Ma perché? Dimmi, porca di pe... No. Perché è così basso? Io che cazzo faccio qua? Ah, ho bugato. Cazzo, mi serviva sto fucine. Dove sto? Sto proprio in mezzo. Sto proprio in mezzo. No, ma se ne va. Allora, o mi metto i 25 di... Sì, già lo sapevo. Già me l'avevi detto che eri su PS4. Però tu hai questa fortuna che con Fortnite puoi giocare con quelli da PC. Allora che io non posso giocarci con quelli da PC. Cioè, mi dico che sono l'unico che è venuto un... 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 Qua, così, così, qua. Oh, che palle. Quanta roba che lascio. Eh, ma non so che dare giù. Allora, non trovo una trappola. Perché a me mi sarebbe piaciuto ammazzare qualcuno con una trappola. Dove essere molto sincero. Però sembra che sto da solo dentro la Salty Springs. Che non è poi tanto un bene. Eh, sì. Eh, c'è una nonna. Oh, porca. Ah, cacchiarola. Allora, io potrei allora adesso togliermi quella semi-automatica che non mi servirebbe proprio a nulla. Non mi servirebbe a niente proprio. Però vorrei trovare quella pompa o quell'altro. Ma l'avrò visto da una finestra? Ho sentito i passi qua. Ma a me il fucino in comune è quello che mi... No, non mi faccio il fortino. Non mi serve a niente con un fortino. Ci sono tutte queste case per mettersi. Eh, ma per me qua c'è qualcuno. Per me qua c'è qualcuno. Eh, sì, infatti. Qua c'è qualcuno. Ma io... E io me ne vado! Perché non serve a un cazzo stare qua in due. Per me può rimanere qua. E io me ne scappo. Oh, ciao. Non serve a niente voler dire adesso. Questa è la sovra? Vai, faccio una... Veloce, veloce. Ecco qua. Via. Prendo questa. Mettete giù. Cioè non serve a niente morire come dei fessi proprio. Ok. Ok. Allora, andiamo un po' a questa. Ok. Allora, però adesso no. Qua non mi ricordo. No, cazzo. Non fare rumore ho fatto la cosa che non bisognava fare. Rumore. Che cazzo. Che cazzo mi sta beccando questo. È scemo. Ah, non mi sta beccando. Mi starò beccando a me. Calmatevi, aiuto. Ok. Questo ovviamente mo' arriva qua, eh. Sicuro come una pasqua. Eh, cazzo lo si. Ah, però aspetta. Togliate da qua che qua mi beccano. Eh, peccato. Non mi serve la mazza. E non mi serve non cazzo. Eh, boh, bene, sto qua. Tranquilla e beata. Non me muovo. Anche perché qua adesso non mi possono più colpire. A parte se non mi vengono a sfondare davanti. Andiamo di qua. Mi metto qua dentro. Aiuto! No, bene. Comunque. Che poi adesso si stringe a un'altra parte. Però è vicinissimo. Posso star tranquillo per un po'. Faccio attenzione. Sì, sì. Con grande calma e grande sangue freddo. E dai, vittoria. Viene da due sconfitte. Ma tu stai facendo le classificate però, Link. Io non le faccio mai quelle. Però non me lo fredde meno. Allora. La seconda però è molto veloce. Non so se... Oh la madonna. Oh, esco dalla parte... Dove dovrei andare dall'altra parte? Io direi guarda, scusami un secondo. Via. Oh. Oh, oh. Lì sopra? Madonna. Io li ho pensato fino all'assù? Hop. Tirate qua. Tirate là. Dritto. Come la Pasqua. Questo è arrivato. Piano piano. Non fanno minchiate. Quello l'ha preso. Eh, sta là. E io lo metto qua. Eh sì, cazzo. Però mi si vede alla destra. Mannaggia. Mannaggia mi si vede. Sì, sì. Gioco su Switch. Anch'io c'ho la Switch. Però ormai la Switch non la porto più in diretta. In streaming. Me la porto... Me la tengo dentro al letto. Che quando... Ok, sono arrivato. Dentro. Che non la porto più in diretta. Purtroppo. Me la tengo tranquilla. Forse dentro da qualche parte sarebbe molto meglio. Eccoci qua. C'è ancora qualcuno qua. Bella madonna. Questo sta proprio... Vabbè, mi è stato molto bravo a mettere questa cosa qua. No. Che palle. Non c'è un pompa però, eh. I pompa sono proprio... Ok, aspetta, vi dà una volta. Bravo. Che io vado qua. Che vado su. Intanto sto lì. Ah, posto. Già. Mi rimango qua. Tra qui l'ho abbiato. Diciamo, sì. Dicevo, sì. Lo Switch me lascia troppamente dentro al letto. Per giocare riposando. Eh, gioco... Ah, Link. Ho comprato pure uno. Ho comprato. Come gioco. È divertentissimo. Anche online. Figata. Cazzo. Basta veramente questo? Lo ho visto. E poi si gioca anche online. Bello. Ah, e poi anche Touch. Touch, touch, touch. Bello. Invece di comprare Mario, Robbiz, Mario Odyssey... Io mi sono comprato uno. Allora. Uh. Eh, sì. Lo sapevo che andavamo all'arita di rocce anche, però. Ripango un attimino qua, va. Allora, forse arriva proprio. Uno. Due. Uno. Due. Sembrano pure tre persone, in più. Senti come se la smelano. Io c'ho sempre quella semi-automatico, mi servirà un cazzo. Perché non ho trovato un pompa decente. Anzi, no. Il pompa l'avevo trovato, ma era... Buggato. Per terra. E mi ritrovo a giocare con questa. Però, vabbè. Forse ci dovrebbe riuscire a uccidere qualcuno con star. Ma... Allora, mi rimangono cinquanta secondi. Io devo uscire da quella porta e andare dritto di là. Che cosa ho di là? Prepariamoci un secondo. La strada... Ok, dunque io scendo, apro la porta e subito di là. Ok, andiamo. 35 secondi. Anzi, io quello che ti dico è già che scendo. E mi preparo. La c'hanno un po' costruito. Eh, no. Non vinco una mazza. Perché non ho un pompa. Non vinco nulla, proprio. Sì, guarda là che cazzo hanno costruito. Fammi ci mette... Fammi mettere... Qua, andando di là. Dove riesci? Se riesco, forse, a girarmi... Dietro la montagna. Madonna mia. Io sento che stanno tutti dietro. Dove cazzo? Puttana mia va. Dove cazzo stanno questi? Un là. Ah, datemi un cespuglio, un cespuglio. Voglio un cespuglio ora. Un cespuglio. Un cespuglio. Ah, ma forse c'è pure la casa. No, non mi può far saltare. Ok. Però devo fare molta attenzione perché qui ci potrebbe stare qualcuno. Non c'è nessuno. Eccoci qua. Ulla, lì è morto qualcuno. Oh, cazzo, guarda qua. Gli sto proprio di fronte. Oh, cazzo, lì c'è il pompa. Merda, merda, c'è il pompa. Me la rischio che vado? Me la rischio? Distruggo il muro e mi vado a prendere il pompa? Macca, me la rischio proprio. Un pazzo, sono. Sono un pazzo, via. Questa non mi serve alla mazza. Vai. Giù, 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 giù. Ma so proprio rischiata del brutto, eh. Ok, adesso tentare. Qua, altre munizioni. Aiaiaia, qualcuno ha visto, mi ha visto qualcuno, ha visto qualcuno. Dove? Non lo so. Sotto, sotto, sotto. Fatti il fortino. Io non mi, non mi viene da già da mettermi il fortino, scusami. Non mi viene proprio da farlo il fortino. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Cioè, perdo solo tempo perché non sono velocissimo. Allora, aspetta, anzi, fammi capire dove chiude. Non chiude un cazzo, non chiude. C'ho un cespuglio? Un cespuglio? Un cespuglio? Una casa, cazzo. Vai là, vai là, vai là. Corri. Dimmi che non me becca nessuno, dimmi che non me becca nessuno. Il blu, il blu, il blu. Sono dentro. Giavort. Devo beccare solo da questa parte qua. Ok. Top 10 e top 25 andati, eh. Mamma mia, sto dentro. Non so cosa farò. Non so che succederà. Non so chi cazzo è quello che mi sta là. Esci da qua. Non sono morto. Non sono morto. Non sono morto. Via, 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 via. Dietro l'albero. Eccolo qua. Che cazzo mi servono questi? Dai. Devo aspettare però, eh. Ok. Tutto il tempo. Ok, sta lì. Benissimo. Io però qua c'ho sempre il cespuglio che ci potrei pure riandare. Ok. Tutto il tempo. Tutto il tempo. Ok, sto dentro io. Senza il cespuglio, eh. Però aspetta che mi metto anche la seconda. Ah, cazzo, cazzo! Non morirò! E vaffanculo, son morto! Non ci ho capito un cazzo dove stava questo. Ah! Vabbè, ho tato qui. Ah, io l'ho vinta un pacco, l'ho vinta. Ne ho vinte tantissime. Cioè, tantissime. Quelle che ho potuto. Ah, ci dovrebbero stare anche... Ah, ma ho fatto pure il singolo. Qua, guarda, l'ho fatto... Ok. Allora, in realtà ci dovrebbero stare anche delle nuove statistiche. Allora, io ho vinto. Allora, 9. Allora, stiamo... Aspetta, quanto sto? Allora, 9, 11. Perché ogni volta ti conterei due vittorie per ogni perché le ho vinte prima che mettessero queste statistiche. Dunque, sono 11 vittorie in singolo. 11 vittorie a coppia. E 6 vittorie in squadra. Sono 11, 11, 22, 22 e 6. 28 vittorie ho fatto in tutto. Vabbè, c'ho statistiche della paura, proprio. No, c'è. No, ok, grande. Ah, il singolo non lo so a quanto sto... M'hanno messo tutto. No, mi hanno messo il punteggio. Sono primo a 480. No, no. No, il duo è impossibile. In duo sono... No, no. Ma questo non me l'hanno calcolato in duo. Che schifo. Ma mi hanno calcolato il duo. Bastardi. Le hanno iniziate? Che schifo. In squadra? Ah, in squadra no. Tutto a zero sta. Eh, ma tutto buggato. Che peccato. Però, oh, il singolo punteggio 480, eh. Sì, l'ombrello. Ma io ho preso il deltaplano che me l'hanno dato in regalo. 480. Punteggio. Signori, sono al primo posto. Non so gli altri come faranno ad arrivare. Comunque. Mi sto iniziando a punteggiare. Si punteggia. Che di bello. Dunque, top 25. 1-1. Che poi mi devono mettere 1-1. Però cazzo le vittorie le faccio quello schifo. Le vittorie le ho fatto una mazza. Ma come faccio a essere io che queste le hanno già fatto in tutte queste cose? Vabbè, devo iniziare un po' a pincero, ho capito. Sì, infatti perché l'ho preso, l'ho comprato. Questo? Cioè, no, non l'ho comprato. Non so come cazzo ho fatto a questa cosa, non mi ricordo già. Non mi ricordo. L'ho fatta per quello là? Non mi ricordo più. Sì, perché hanno iniziato un'altra volta tutto quanto. Però io sto giocando bene. Ho iniziato già a avere dei top 10 e top 25 per quello. No, ce l'ho quello. Il livello 25 io ce l'ho. Però adesso non mi ricordo come ho fatto a avere quello là... Quello lì dell'esercito. Ho un ombrello e due deltapline. Sì, beta chiusa ancora. Andiamo qua. Quello dell'esercito a livello... No, era quell'altro. Non era quello dell'esercito. Ah, sì, giusto, bravo. No, quello dell'esercito è un livello 25. Sì, perché quello iniziale era quello normale. Giusto, c'è ragione. Un livello 25 è vero, avere quello dell'esercito. Beh, adesso speriamo che Twitch ci dia della roba. Sì, che Twitch dà dei codici o qualche cosa per prendere un po' di ombrelli, queste cose qua. Beh, da più per questi giochi multiplayer. Eh, peccato che non ci stanno cassa, non ci sta niente. Quello è anche vero, un gran peccato. Quanti arrivano? Non arriva nessuno qua. Non ce la pazza. Questa porta non ce la pazza. niente, seconda porta, assolutamente il nulla, terza porta, niente di che, manco qua la cassa, ho messo bene qua, cazzarola, andiamo, molto velocemente, pistola non mi serve, qua non mi serve, ok andiamo, uh, armatura, punizioni, si era scaricata, ma tu hai comprato qualche cosa, per Link, per la Switch, per giochi Nintendo, in questo momento che c'è il loro black, che c'è il loro, ah però andiamo all'indirla, forse è meglio, che ci sono i loro sconti, c'era, io ero interessato a 9 euro in 99, quel gioco Sega per Nintendo 3DS, LRPG, GRPG, uh, beh, finalmente, guarda, guarda cosa ho trovato finalmente, non sento, sento un cazzo, cazzo è qua, proprio, da, niente, da paura, proprio, porca puttana, da cagare, fanculo, ah, mi sono messo pure paura, ah, fermare il cuore, ah, bravo, no, ma io negli amichevoli sono bravo, cazzo, diventa bravissimo, cioè non perdo più una partita in amichevole, però mi sa che lo devo giocare adesso perché hanno messo nuove mappe, vero, Link, hanno messo nuove mappe su Splatoon 2, mi dobbiamo mettere a giocarci, a me servirà anche un foglio perché dobbiamo mettere, mi sembra che finisce domani, però su Twitch potrebbero mettere qualche altra cosa più interessante, nelle, cioè I am setura, l'azzatura, 23 euro, ma buff, non lo so, non lo so. Uh, bello, allora dopo ci faccio un salto più tardi, più tardi ci vado, lo vado a giocare un po', che sfiga però la partita di prima, cazzo, perché mi sono mosso, sapevo che c'era qualcuno e ci sono andato lo stesso, io sto andando tutta un'altra parte. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Che poi adesso sono sciti tanti bei giochini a 10 euro, 15 euro, 19, 90, 20 euro. ah e c'è pure quel giochino lì dello chef è stato veramente ben ben votato quello incredibile non pensavo che un giochino così avrebbe preso così tanto delle belle votazioni lo sai? quello dello chef eh c'è qualcuno non possiamo anche entrare qua voglio me preparo qua dietro uh non tanto distante poi in definitiva però devo fare attenzione non mi ricordo come si chiama quel gioco chef barcade una roba del genere sta arrivando spero che arrivi non lo so urgh che Grazie a tutti. 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 Che cazzo sta sfiga? Perché sta sfiga? Porca. Me li ritrovo pure davanti. Due palle però... No, lo sto iniziando ad odiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma la lascia stare, va. Mi sono trovato posizionato malissimo, ma... Mi sono posizionato malissimo, cazzo. Non è possibile. No, ma che cazzo... 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 Non lo so... Ma che cazzo... No, ma che cazzo... No, ma che cazzo... No, ma che cazzo... No... No, ma che cazzo... N'ho mai maiしますかった... copil è andato via si, gioca su playstation 4 gioca copil l'avevi detto prima che tu arrivassi che c'è la playstation 4 4 ah copy guarda io ieri ho no l'altro ieri ho riacceso la playstation vita incredibile dopo che mi ci è voluta 20 minuti per farti riprendere la potenza della batteria qualcuno è passato ero andato a vedere attivino le offerte che c'erano ma sono arrivato un po' tardi dopo la mezzanotte erano finite le offerte per la vita però ho visto che c'erano una mazza di offerte proprio non te regalavano più niente asist Grazie. Questa rischia tantissimo, perché non ho una beata nazza di armi. Per me sto a fare una cazzata, perché mi sto avvicinando troppo velocemente. Questa rischia tantissimo, perché mi sto avvicinando troppo velocemente. Il Le Dio è di più. E per mezzo Qua la porta è chiusa, per me c'è qualcuno qua, non c'è proprio nessuno, qua potevo fa proprio il camperaggio della madonna qua, e beh, camperamo alla follia, e un po', dove chiude, non c'ho da niente, ecco, per se non ho un'arma. Cazzo, pazzà. Si sta riflettendo se andare su qui o qua. Cazzo, pazzà. E che cazzo, qua ci muoio fra poco, fra poco ci muoio, cazzo di merda. E vaffan, me ne vado, che cazzo, ne torno indietro. Sì, è molto pulitissimo, però ho fatto una cazzata qua. Quella muoio mi sta spettando là. Però posso andare a prison park. Che è questo? Che è, che è, che è? Che mi è arrivato? Che cazzo mi è arrivato? Qui mi danno di spestri gratis. Figata. Questa. Vai via. Dè, ma... Cioè, un'isio ha fatto un fortino per un cazzo quello io. Cioè, lo sta ammazzando? non ti posso stare, ma qua è un po' pericoloso credo cazzo sta questo va a cagare fa un culo del cazzo io che non l'ho fatto andare basta quattordicesimo ma porca la ma porca la questo è sbagli sbagli da principiante sbagli da principiante una roba assurda, è assurda è assurda sta roba ciao copil, grazie mille di essere passato grazie, grazie di aver rinfatto compagnia, grazie mille ci voglio credere ci voglio credere grazie mille di essere passato 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 ma il matchmaking no perché comunque guarda vanno a ritmo di 30 ti rispondo prima vanno a ritmo di 300 persone non è che bisogna aspettare tantissimo che non ho letta questa questa cosa che avevi detto però no non 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 Sì, sentivo se ha sparato già dall'altra parte. Allora, sono una cassa, perché non c'era niente entro la cassa, eh? Alla fine è finito il gioco dei nazisti? No, ancora no, ci manca... non so quanto ci manca, deve essere molto... Deve essere molto sincero. Lo sto continuando, però. Mi sta piacendo però, è cari bello, è un bel gioco. Andavo comprato, penso, sui 20-30 euro per dargli un po' invece di 10, perché comunque 10... Questo non dov'ha? Però vabbè. No, metto ancora una miraglietta... Sì, senti nulla. Ecco qualcuno che è venuto prima di me. Dunque per me forse è meglio uscire da qua, eh? Aspetta, mi ricordo che c'era uno che era andato a belli per forza, ok? Allora... Mettete dentro... Avete... Avete... Vabbè, almeno alla fine ti è piaciuto? E poi dicevi, io che brutto, troppo lento, troppo lento, e poi, tac, quando mi è piaciuto? Ah, stanno tutti qua stanno. Che vado là? No, porcazzo. Ok. Madonna mia, questo. Era strapieno di armi. Un po' un deficiente, cioè, ripensandoci, oh cazzo, guarda che mi ha lasciato pure. Aspetta un secondo, a me ci riflette un attimo. No, per me lui veniva da là. No, peccato che però costa un po' troppo. Dovevo essere molto sincero. Per me costa troppo. Tu quanto l'hai pagato per, credo che ci hai giocato per PC? Io non so tu come ci hai giocato. Che era, PlayStation 4 o PC? Allora, tu sia, stai, 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 stai. Grazie a tutti 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 Non sono male, non lo so Sì, oggi sono male Non c'è qualcuno Ma cazzo Ma vai a fare un culo Ma vai a fare un culo Che laggata de merda Che laggata de merda Questa è proprio sfiga Questa è proprio sfiga del cazzo de merda Questa è proprio sfiga del cazzo Ah bravo, ti sei perso la laggata E' uno che si chiama Goku Su Mixer Che mi ha detto che faccia uno schifo Vabbè Non tutti i giorni si può essere bravi Che cazzo di merda Che cazzo di merda Che cazzo di merda Comunque penso che dopo di questo chiudo perché voglio vedere un attimino i cambiamenti di Splatoon 2, sono curioso. Ah, l'ho giocato su PC, no, no, sono un po' di stentuccio dalla casa, però mi sembra che forse ci sia lì. Oh, c'è il trampolino viola. E questa volta c'è pure la cassa. Oh, c'è il trampolino viola. Sì, ma significa perché l'hanno fatto con il sederino, per quello. Tutto qua. Ah, che deve salire. Come primo, uguale, oh, cazzo, uguale, identico a prima. Eh, ma io andrei a vedere se lì c'è la cassa, però, vedi. Ci sto per mettere un po' troppo, mi sa. Allora. 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 Grazie a tutti Vabbè vaffan buono Basta così perché oggi è proprio sfigato Aio di tutto mio Dio Vediamo un po' a chi posso dare l'host Perché veramente Mi fa incazzare peggio Andrà meglio domani Andrà meglio domani 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 Boh Perché? Ma non ho capito perché Ma è diventato tutto viola qua Switch Porca zozza È diventato tutto viola Passiamo a Leo Saba 73 Sta giocando col Playstation VR Che l'ha comprato a 199 euro È riuscito a prendere il Playstation VR 199 euro In promozione Dunque vai Facciamo questo Passiamolo Grazie comunque Link di essere rimasto con me A farmi compagnia Cazzo veramente Cazzo veramente Tutto è diventato viola Sto cazzo di cosa Ah ma c'è un santuario nero Canicla? Oh canicla No Canicla Io l'ho venduto per il VR Per prendermi lo Switch Ah tu c'hai il VR E com'era? No ma c'era canicla Ma perché non ha detto nulla Canicla Ben tornata Sto vedendo gli spettatori Non ha detto nulla Cioè pure il santuario nero Ma non ho capito il perché Cioè nessuno che parla Nessuno che scrive Più che altro Comunque niente Ci vediamo domani mattino Dove pomeriggio Ancora non lo so Si vedrà Niente Passo Lost al santuario No al santuario Sì Passo Lost a Ne ho già dimenticato Chi cazzo doveva sa No Leosaba 73 E vediamo com'è questo PlayStation VR Grazie mille ancora E niente Alla prossima Grazie mille Ciao Ciao Stacchi Eh sì Sono veramente stacco Però Se a me mi piace ragazzi A voi mi piace A me tantissimo E' un mondo Inesplorato Guardate Ma non mi piace E' un bambino Ma in con E' un Fhh C'è ragione Ma da' Come sta Questo? Questo? Sì. Allora aspetta, magari posso continuare con il contenitore. C'è una mella da? Non ce l'ha accorto adesso. Grazie. Allora, la X. Ed è questo. Come mi metto? Allora.